Merito veramente dei ragazzi, ci sono tante persone a cui è un po' che volevamo dedicare questa vittoria a partire dalla sfortunata situazione di Rispoli, continuando con il nostro addetto stampa Montanari e in settimana abbiamo avuto anche la perdita del papà di Spinelli che fa parte dello staff, il nostro preparatore dei portieri, quindi sono tutte persone a cui volevamo dedicare una vittoria e finalmente stasera ci riusciamo. Ai tifosi che sono stati bravi, si gli avevo chiesto un aiuto, chiaramente stasera non era facile venire, però quelli che sono venuti si sono fatti sentire e veramente hanno gioito con noi, sia le persone in tribuna ma i ragazzi della curva che sono fantastici e si seguono anche in tutte le trasferte, quindi questa vittoria va anche per loro assolutamente sicura.